Pronto dalla regia, mi sentite? Sì? Sì, siamo in collegamento. Mi sentite? D'accordo, aspetto l'ok, possiamo partire. Buongiorno, siamo qui al quartiere Tamburi di Taranto, nuova ordinanza del sindaco. Nelle giornate di vento forte di tramontana, i cosiddetti wind day, i cittadini sono obbligati, costretti a indossare un sacchetto di carta, ad andare in giro con questo sacchetto di carta in testa. In città, come vedete, c'è fermento, c'è forte malcontento, la città è divisa. C'è chi accetta l'ordinanza e già indossa il sacchetto e va in giro per il quartiere e c'è chi invece protesta. Proviamo a sentire che cosa ne pensano i cittadini di Taranto. Io sono d'accordo perché, ripeto, il sacchetto è indispensabile così non entra niente nel sacchetto. D'accordo. Sì, no, no, a me mi fa piacere il sacchetto, così non mi devo pettinare la mattina. Abbiamo iniziato col sacchetto, poi alla fine, secondo me, vanno a chiudere le finestre, chiudono le scuole e insomma... Vabbè, non esageriamo, la scuola è un diritto dei cittadini. Io quasi quasi me lo tolgo perché non ci vedo proprio, non va bene questo sacchetto, io sono contro quest'ordinanza. E se dovesse dire delle cose al sindaco, cosa gli direbbe? Su mettessi gli due sacchetti in capo, io non lo voglio. E in questo clima di tensione al quartiere Tamburi di Taranto parte anche un nuovo movimento che si chiama Noi con Salvietta, siamo qui con l'esponente di questo nuovo movimento, gli chiediamo cosa ne pensa di quest'ordinanza. Noi ci abbiamo stangato, basta, qua siamo pieni di ignori, adesso non vedete lì, gli ignori dappertutto, non ce la facciamo più, pesce da polvere, non dalla cassetta, con cellofan, ce la dobbiamo smettercela, al porto, al porto devono andare, non ce la facciamo più con il razzismo, basta! Come potete vedere il clima è molto teso. Abbiamo fatto una passeggiata qui al quartiere Tamburi di Taranto, siamo nel mercato rionale per ascoltare un po' gli umori della città, sentire i sentimenti delle persone, cosa ne pensano di questa nuova ordinanza? Chi vuol parlare per primo? A me mustatiscia, a me mustatiscia, A me mustatiscia, a me mustatiscia, E allora sintamme, come sapete c'estetica, Che venghù la sevente, che venghù la sevente, io presto a me mustatiscia, a me mustatiscia, A me mustatiscia, Prima e solda e dopo i fessi, e intanto stiamo tutti in danno cessa. A me mu sta dici, a me mu sta dici. Siamo chiunque da molnezza, non si acchiano perché c'è, siamo meglio quando siamo peggio. Avete pure una pozza, mo' crediamo tutte e poi, avremo e mangiamo tutte a casa toglie. A me mu sta dici, a me mu sta dici. E allora si un dame, un pozza pece stai, vingi e vengulante, c'è me ne furtame. E allora si un dame, un pozza pece stai, vingi e vengulante, c'è me ne furtame. Me, me, me. D'era rossa bufoluta, l'ana scritta sta canzone, sicuramente per scagliarti, da quando si c'è drona. Non ti trassi in dalla capa luce, perché chi è importante lo capisci troppo tardi, quando giudo a campassare, si buona l'ha mancata, a un bar azzese con l'alice, da che era bocca a essa. A me mu sta dici. Non so dove c'è la scuola, d'osa, ma da creature notte di più, quando la gente sta combattendo il tumore. Andano, stadi, 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 andano, stadi Udigate, proviate, valla a vinder un sende, parla a semarota nuova, è la fanda nuova, è la fanda nuova, è la fanda nuova, è la fanda nuova. Amico se dice, tu dica te, tu diciamo, a te, tu dica me, a te, ah me, a te, ah me, a te, ah me, ah, 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 ah. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info